Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e ben trovati in diretta a questa edizione di pranzo del nostro TG, un'edizione che apriamo con la politica perché nella Camera è appena terminato l'intervento del Premier Draghi che ha risposto alle considerazioni dell'Aula sul Recovery Plan dopo la presentazione nella giornata di ieri. Draghi ha appena finito di parlare, adesso è in corso l'intervento anche degli altri parlamentari. Draghi nel suo intervento ha detto che indubbiamente i tempi erano stretti per la presentazione del programma ma la scadenza del 30 aprile non è mediatica, ha detto Draghi, è che se si arriva prima si avranno i fondi prima. La Commissione andrà sui mercati a fare la provvista per il fondo a maggio, poi la finestra si chiuderà nell'estate, ha detto Draghi, che ha aggiunto, ribadisco il profondo rispetto che il Governo ed io abbiamo per il Parlamento, indubbiamente i tempi erano stretti. La vera sfida, ha aggiunto Draghi, non appena il piano viene consegnato, è di trovare un modo di attuazione dove le amministrazioni locali e il Governo centrale che sono chiamati a una mole di interventi trovino uno schema di governo del piano. Il vero governo non è cosa fa Palazzo Chigi, ha detto ancora Draghi, il punto nodale è proprio questo, quindi il rapporto con le amministrazioni locali per l'attuazione di questo piano. Questo pomeriggio Draghi alle 15 sarà in Senato per la presentazione anche all'altra ala del Parlamento del Recovery Plan e poi in serata è attesa appunto la votazione dell'Aula sul progetto. Intanto andiamo a vedere qualcosa di più su quanto previsto da questo recovery, più soldi al super bonus meno alle energie rinnovabili rispetto alla bozza del piano che era stata anticipata qualche giorno fa. Allora sentiamo il servizio curato dall'Agenzia ANSA. Il fascino del mattone in Italia vince sempre anche quando si tratta di transizione ecologica. Nel testo finale del Recovery Plan consegnato al Parlamento i fondi per l'efficientamento energetico degli edifici, grazie all'eco bonus, sono saliti di 3,73 miliardi rispetto all'ultima bozza. A fare nelle spese i finanziamenti previsti per le rinnovabili e i trasporti puliti tagliati di quasi 3 miliardi. Il testo definitivo del piano prevede 1,83 miliardi in più per la transizione ecologica rispetto alla bozza di venerdì. Ma è aumentata soprattutto appunto la voce dell'efficientamento energetico degli edifici attraverso il super bonus al 110%, 3,73 miliardi in più. In particolare circa 3 miliardi e mezzo sono per l'efficientamento energetico e sismico dell'edilizia residenziale pubblica e privata, altri 200 milioni sono per i sistemi di teleriscaldamento. Ma i soldi supplementari per il super bonus voluto da tutti i partiti e da Confindustria alla fine sono stati trovati tagliando sulle rinnovabili. I fondi per le energie pulite, l'ammodernamento delle reti e la mobilità sostenibile sono calati di 2,78 miliardi. Si salva solo l'idrogeno che vede aumentare la dotazione di 3,19 miliardi. In compenso sono aumentati gli stanziamenti per la lotta al dissesto idrogeologico e per le risorse idriche e rimangono praticamente invariati quelli per economia circolare e agricoltura sostenibile. E anche in ambito locale il Consiglio regionale questa mattina sta esaminando la risoluzione sul piano nazionale di ripresa e resilienza che è stata accolta ieri dal tavolo per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia. Oggi il Consiglio regionale dovrà votare questa risoluzione che pone tre obiettivi socio-economici e sei aree di intervento per realizzarli. Il documento di cui si è discusso a lungo nella seduta di ieri del tavolo coordinata dal Presidente dell'Assemblea, Piero Mauro Zarin, individua nel calo demografico e nel brusco stop dell'ascensore sociale i due maggiori problemi da affrontare e risolvere nel Friuli Venezia Giulia del post pandemia. Ne consegue che è necessario, come si legge nella risoluzione, favorire politiche di incentivo alla natalità adottando misure per attrarre talenti e che occorre promuovere il benessere dei cittadini non soltanto adottando misure che consentano di far crescere il PIL ma anche agendo su fattori sociali che portino a un benessere equo e sostenibile. Per arrivare a queste mete il documento individua appunto sei vaste aree di intervento per un totale di 21 punti. La prima area riguarda il sistema territoriale, bisogna valorizzare il sistema della logistica intermodale, della portualità e delle infrastrutture utilizzando anche la fiscalità di vantaggio come l'extra doganalità del porto di Trieste ma anche migliorare la mobilità con particolare attenzione ai collegamenti ferroviari. La seconda macro area di intervento è quella della valorizzazione delle filiere strategiche dei settori produttivi con il rilancio dell'artigianato di qualità dell'agricoltura e la promozione del made in Friuli Venezia Giulia. La terza area è l'accelerazione tecnologica e prevede di valorizzare il patrimonio di eccellenza scientifica con investimenti in ricerca e in innovazione. La transizione verde è il quarto caposaldo e prevede nuove tecnologie per la mobilità e i consumi basati sull'idrogeno e sui combustibili verdi. La quinta area è quella del turismo lento e sostenibile, vale a dire la creazione di piste ciclabili e la valorizzazione dei siti UNESCO. Infine nell'area della salute sono previste politiche per la sostenibilità economica dei sistemi assistenziale, sanitario e pensionistico e anche il potenziamento della rete di assistenza territoriale in modo da consentire una vera vicinanza alle persone. La risoluzione impegna il governatore Fedriga e la sua giunta a tener conto di questi obiettivi e priorità auspicando un dialogo costante tra esecutivo e consiglio sull'attuazione dei progetti per la ripartenza. E adesso dalla politica passiamo alla cronaca. Come per le altre edizioni anche quest'anno la Polizia Stradale delle Friuli Venezia Giulia nella settimana dalle 19 al 25 aprile ha partecipato all'operazione congiunta europea denominata Speed con l'obiettivo di contrastare su tutte le strade d'Europa l'eccesso di velocità. Effettuati in regione 140 controlli, la maggior parte dei quali in provincia di Udine, ben 73. Tra i casi più eclatanti in località Palazzolo è stata immortalata dalle apparecchiature della Polstrada una Mercedes con targa romena che viaggiava a 197 km orari e anche un Audi con targa slovena a 189 km orari sul limite di 130, superando quindi di oltre 40 km il limite previsto dal codice della strada. In tutto la polizia ha ritirato 23 patenti, 17 a conducenti di veicoli commerciali dopo l'esame del crono tachigrafo, la scatola nera dei camion dal quale appunto è emerso il superamento dei limiti di velocità da parte dei mezzi commerciali. E con la cronaca adesso ci spostiamo a Trieste dove un uomo di 51 anni già noto alle forze dell'ordine per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio è stato denunciato dalla polizia perché è salito a bordo di un bus ma senza indossare la mascherina e dunque ha avuto una vivace discussione con altri viaggiatori. Una volta sceso in via Udine ha infranto una vetrata di una pensilina colpendola con un trolley. Infine è stato protagonista di una rissa con altre due persone che lo hanno aggredito e poi si sono allontanate. Agenti della volante intervenuti sul posto lo hanno identificato e denunciato. Indagini sono in corso per individuare anche gli altri due aggressori dell'uomo. E adesso guardate questa foto che ci arriva da Pordenone, da via Dante dove questa mattina poco dopo le nove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza e rimuovere due autovetture in bilico sul solaio di alcuni garage interrati. A porre i due mezzi in questa precaria situazione è stato un furgoncino che per un guasto all'impianto elettrico ha visto azionarsi autonomamente il motorino di avviamento. È quindi avanzato e ha tamponato i due veicoli che hanno sfondato il parapetto. I pompieri dopo aver sollevato le auto con dei cuscini pneumatici le hanno portate in sicurezza trainandole con un verricello. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pordenone per i rilievi dell'incidente. E adesso andiamo avanti con il nostro Tg parlando di acqua, della qualità dell'acqua del Friuli Venezia Giulia. Una qualità eccellente o buona nel 98% dei casi per quanto riguarda le acque di balneazione della nostra regione. E quanto emerge dal primo monitoraggio stagionale effettuato dall'ARPA del Friuli Venezia Giulia e presentato a Trieste durante il primo incontro del progetto a misura di mare in viaggio per la sostenibilità. Una serie di incontri organizzati dall'ARPA e dalla regione in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico, porti di Trieste e Monfalcone. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati i risultati dei primi monitoraggi effettuati lungo la costa del Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio dei 66 siti balneabili, 61 hanno presentato un livello di qualità eccellente, 4 di qualità buona e uno solo sufficiente. Nei prossimi incontri organizzati sempre nell'ambito di questa iniziativa messa a punto dalla regione si parlerà anche di rifiuti spiaggiati, microplastiche, rumore subacqueo, pesca in mare, specie aliene e altri progetti europei per la sostenibilità dell'alto Adriatico. Sono stati ultimati i lavori di pulizia del bacino del canale scolmatore corno tagliamento con l'asporto dei sedimenti che si erano depositati nell'ultimo periodo in occasione degli eventi alluvionali. L'attività di manutenzione è stata realizzata dal Consorzio di Bonifica della pianura friulana nell'ambito della convenzione sottoscritta con la regione per la gestione e la manutenzione di questa importante opera idraulica entrata in funzione a fine 2002. Negli ultimi anni l'opera ha garantito la sicurezza idraulica a vaste aree del medio Friuli attraversate dal torrente corno in primissi territori nei comuni di Rive d'Arcano, Mereto di Tomba e Codroipo. Un'opera importante, ha sottolineato la Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiati, che deve essere mantenuta in efficienza. L'intervento di manutenzione quindi è un passo importante in questa direzione. Il canale scolmatore corno tagliamento presenta una galleria lunga 5.300 metri con un diametro di 5 metri ed è in grado di convogliare una portata di 100 metri cubi al secondo nel fiume Tagliamento in zona San Daniele. È un'opera fondamentale per evitare gli allagamenti. Adesso apriamo la pagina dedicata alla cultura perché anche una collezione d'arte in periodo di pandemia può essere simbolo di rinascita. Il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanine, che ha concesso il patrocinio dell'Assemblea regionale alla mostra Sconfinament da una collezione friulana di arte contemporanea ideata dal Comune di San Vito al Tagliamento con l'Associazione Culturale Colonos di Villa Caccia di Lestizza e il sostegno della Fondazione Friuli. In mostra oltre 200 opere di 51 artisti friulani e non appartenenti alla collezione di Federico Rossi. Cinque le sedi espositive nella stessa San Vito, le antiche carceri, la chiesa di San Lorenzo, il complesso ospedaliero dei Battuti, Palazzo Altanne, l'essicatoio Bozzoli, ma anche la galleria regionale d'arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca di Sonzo. La mostra sarà visitabile fino al 13 giugno. Vediamo. Noi vogliamo dare il senso del ritorno alla vita e la vita significa anche mostre, cioè la capacità di cogliere in ciò che gli artisti hanno messo su tela le angosce, i desideri, le volontà delle persone, delle donne e degli uomini. Questa è una grande mostra, 200 opere, 50 artisti del nostro Friuli o che hanno avuto rapporti con il nostro Friuli. Allora, intanto la mostra di una collezione privata, la collezione di Federico Rossi, che si è costituita nel corso dei 30 anni in autonomia, ma anche in relazione in diretta con le attività espositive dell'Associazione Culturale Colonos, che ha sede a Villa Caccia. Il tutto però secondo un progetto che potremmo definire identitario, nel senso che tiene conto dello sviluppo dell'arte in Friuli, non solo arte del Friuli, ma arte in Friuli, negli sviluppi contemporanei, ma anche con attenzione a tutti i processi artistici legati a una sorta di identità. Quindi confluiscono nella collezione anche artisti nazionali e internazionali. Gli scarpezze friulani come emblema del riuso. È friulana, infatti, la vincitrice del contest lanciato da Lega Ambiente. Tutto torna a storie circolari per la categoria foto. Una scarpa circolare perché è prodotta da materiali dismessi, con suole create da copertoni, vecchie lenzuola e confezioni di cartone. A realizzare questa foto una fotografa triestina che ha partecipato appunto al contest. Simona Rossetti che tra l'altro ha realizzato anche un dottorato in progettazione architettonica e urbana e ha la passione per la fotografia. Il suo è il racconto di una storia virtuosa di riuso a chilometro zero, quella che appunto ha portato alla creazione di questi scarpezze friulani. E adesso ci spostiamo a Fagagna, all'oasi dei Quadris che come tante altre attività riaprirà i battenti nei prossimi giorni anche con qualche nuovo arrivo. E allora subito la linea Monica Nardini. Buongiorno Monica. Sì, ben ritrovati da Fagagna. Accanto a me Dima Lauzana, volontaria dell'oasi dei Quadris, che è dunque pronta a riaprire le porte al pubblico, alle famiglie friulane e ai turisti, ovviamente nel rispetto della normativa anti-coronavirus. Dunque riaprirete il primo maggio, sabato? Sì, esatto, riapriamo il primo maggio e poi saremo aperti tutte le domeniche e i festivi dalle 10 alle 18 e i giorni feriali durante la settimana e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Con una riapertura attesa avreste dovuto aprire a marzo, secondo il vostro calendario, ovviamente pre-pandemia, ma è tutto pronto. Ricordiamo cosa bisogna fare per poter accedere a questi spazi? Semplicemente indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza tra le persone. Poi lo spazio è abbastanza grande, sono più di 6 ettari, per cui non c'è pericolo di assembramenti. Ovviamente siete impegnati già da anni nella reintroduzione della Cicogna Bianca in Italia, anche della tutela dell'Ibi Seremita. E a proposito della Cicogna, anche qui c'è un uovo nato, proprio il primo si può dire, all'interno di una voliera dell'Oasi. Tutte le altre Cicogne sono libere però, no? Sì, sì, sì. C'è un gruppetto di Cicogne in voliera e alcuni di questi hanno fatto il nido e lì siamo riusciti a vedere il primo Cicognino nato quest'anno. Avete già dato un nome? Non gli abbiamo ancora dato un nome per scaramanzia, però abbiamo i nomi dei genitori che abbiamo dato i nomi delle coppie dei volontari dell'Oasi. i genitori sono Silvio e Loredana. Ovviamente le Cicogne nella voliera lo sono perché hanno bisogno ancora di qualche cura per alcune problematiche che devono superare. Ce ne sono molti di esemplari liberi. Sono quanti i nidi che vediamo attorno a noi? Sono circa 35 nidi, qui tra l'interno dell'Oasi e lungo la strada. Le Cicogne libere c'è una colonia di circa 75 individui e in questo momento sono ritornati anche alcune migratrici per cui siamo sugli 85 Cicogne libere. Siete soddisfatti? Insomma, un buon numero a vostro avviso? Un buon numero, sì. State anche costruendo un nuovo centro visita? I lavori sono iniziati circa un mese e mezzo fa? Adesso state anche voi aspettando di sapere quando potranno essere conclusi, tempo al tempo, magari si riaggiornerete. Questa comunque è un'altra novità importante come spazio che potete offrire anche ai visitatori. Sì, sì, certamente. Ringraziamo anche la Regione che ci ha fornito i contributi per questo nuovo centro visite. Desiderate rilanciare magari anche un appello alla popolazione, a chi passa, magari anche sullo stradone proprio qui all'ingresso dell'oasi perché appunto può capitare che alcune di queste Cicogne libere possano attraversare la strada. Sarà la strada anche volando a quota bassa, poi fra un po' quando saranno nati i primi Cicognini che inizieranno a volare sono ancora un po' imbranatini, quindi chi passa lungo la strada che va da Fagani a Caporiacco, che presti un po' di attenzione e non correre troppo. Un appello alla prudenza. Sì. Grazie allora Dima, la lasciamo continuare nel suo lavoro anche qui all'oasi. Da Fagani è tutto Angela, voi? Grazie a Monica Nardini per questo contributo e prima di andare a collegarci con la Dash Arena per gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda lo sport ludinese. Un aggiornamento per quanto riguarda invece la pagina politico-amministrativa con una decisione della Giunta regionale che ha stanziato ulteriori 2,9 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane in un momento in cui gli effetti della pandemia si fanno ancora sentire. Quanto dichiarato dall'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Obini commentando l'approvazione da parte della Giunta regionale di una delibera con la quale le risorse avanzate da un capitolo di bilancio sono state assegnate al fondo del centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane il Cata che eroga incentivi alle imprese artigiane di competenza appunto della direzione centrale attività produttive e turismo. E adesso siamo pronti per andare da Alessandro Surza alla Dacia Arena per gli ultimi aggiornamenti, le ultime novità sull'Udinese che riprenderà domani la preparazione in vista della gara di domenica contro la Juventus. Alessandro buongiorno. Buongiorno Angela, eccoci qua di nuovo collegati. Angela è una, come hai detto tu, una settimana che porta alla gara contro la Juventus, una settimana che dopo alcuni giorni difficili, dopo un paio di settimane con una piccola interruzione di ritiro, questa invece è una più tranquilla, una settimana più tranquilla perché la vittoria contro il Benevento ha tranquillizzato quelli che erano un po' gli animi preoccupati, preoccupati per una situazione che non era assolutamente grave ma che in caso di sconfitta avrebbe potuto essere un pelo più complesso e invece l'Udinese ha sfornato una prestazione sicura, una prestazione da grande, una prestazione che ha portato a quattro gol in una sola volta che non si vedevano o non si erano mai visti in questa stagione. Di conseguenza la squadra ha risposto sul campo alle critiche e soprattutto per le gare in casa perché poi è quello, no? Il problema che l'Udinese deve affrontare, deve risolvere anche se ormai i problemi andavano risolti prima, siamo a fine stagione, però è chiaro che contro l'Iventus c'è un'occasione importantissima per fermare questa emorragia di tre sconfitte consecutive subite in casa senza segnare alcun gol, soprattutto due delle quali sono arrivate da calcio di rigore che sono episodi che sono assolutamente migliorabili e quindi domani l'Udinese si ritroverà per focalizzare quelli che sono appunto i punti cardine da mettere a posto in vista della gara contro la Juventus una gara molto complessa perché se l'Udinese è quasi tranquilla la Juventus non lo è affatto visto che sta inseguendo in una lotta all'ultimo sangue con Milan, Lazio, Atalanta e Napoli un posto in Champions League, una esclusione avrebbe del clamoroso quindi la Juventus arriverà qua veramente con voglia di fare bene, l'Udinese si dovrà far trovare pronta e chi sarà in porta contro la Juventus sarà Simone Scufet che approfitterà del turno di squalifica di Juan Musso, Scufet quindi tornerà a difendere i colori bianconeri in Serie A dopo quasi tre anni, era proprio la stagione 18-19 quella delle prime partite della titolare di Scufet a inizio stagione prima del recupero di Musso che era arrivato e si era subito fatto male ebbene Scufet ieri ospite a Udinese Tonight, ricordiamo che è vero che adesso è un po' di tempo che è fermo ma solo l'anno scorso era il portiere dello Spezia che ha fatto quella cavalcata straordinaria che ha portato alla promozione appunto in Serie A, poi lo sappiamo per vari motivi Scufet non è rimasto in Liguria ma ha ricevuto il premio proprio in questi giorni come miglior portiere della scorsa Serie B e allora vediamo Scufet che parla proprio di questo prezioso riconoscimento e poi a te Angela. Ovviamente è sempre bello vedere riconosciuto il proprio lavoro e poi ancora di più questo premio è molto bello perché è dato da degli addetti ai lavori che sono quelli che più di tutti hanno la possibilità di giudicare, sono quei preparatori che hai affrontato durante l'anno che quindi hanno visto tutte le partite con grande attenzione e con un occhio anche diverso perché poi solo chi fa o ha fatto il portiere può capire e vedere certe cose e poi come hai detto riceverlo in un momento in cui non si sta giocando comunque ti dà ancora quella spinta in più per continuare a voler lavorare, a migliorare per poter poi l'anno prossimo avere la possibilità di dire la mia in campo. E di Udinese torneremo a parlare ampiamente questo pomeriggio alle 15 nel corso della consueta diretta di pomeriggio calcio. L'informazione ritorna invece alle 16 poi ancora in diretta alle 19 e alle 22 e 30, alle 20 e 30 il Tg dedicato alle cronache dal Veneto e poi per quanto riguarda invece il basket sappiamo martedì è il giorno del basket e allora alle 17 e 30 la gara di serie A1 tra Venezia e Treviso e poi alle 21 assieme a Massimo Campazzo e ai suoi ospiti basket a nord-est. È tutto per il momento, grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio a tutti.